Musica Se dicevamo nei titoli oggi la Nature Restoration Law, cioè la legge sul ripristino della natura, approvata proprio qualche giorno fa dal Parlamento Europeo con 329 sì e 275 no, quindi parecchi, e 24 assenuti. Paesi Bassi, Svezia, Finlandia, Italia e Polonia hanno votato contro, tutti gli altri, quindi gli altri 23 hanno votato invece a favore. Prima di spiegare a chi si ascolta cosa significhi questa legge, gli effetti, insomma, secondo lei, dottor Lauria, quali sono le ragioni del votare contro? Che cos'è che spinge il governo italiano a votare contro? Si parla di concessioni fatte, per esempio, al PPE che aveva presentato parecchi ammendamenti a favore del comparto agroindustriale. È così, secondo lei? Beh, allora, da premettere che effettivamente, considerando che sono state ben 21 le nazioni che hanno dato a favore della Nature Restoration Law, è imbarazzante come proprio l'Italia, al di là degli altri paesi che l'hai citato prima, abbiamo votato contro, considerando che alla base di questa normativa c'è la tutela della biodiversità e non dimentichiamo che l'Italia è il maggiore, è una delle nazioni più importanti per quanto riguarda il patrimonio di biodiversità. Si continua a parlare, diciamo, di opposizione a un contrasto tra agricoltura e ambiente, quando poi invece è tutto il contrario. Io mi riferisco a un cartello che ho visto durante le manifestazioni, è vero che i agricoltori si lamentano e fanno bene a lamentarsi perché hanno dei grossi disagi. Questo cartello recitava che non si mancia senza il sostegno, senza il lavoro degli agricoltori. È vero, ma è anche vero che gli agricoltori non possono produrre le eccellenze che sono abituate a produrre senza una natura, possibilmente quando meno contaminata possibile. In questa direzione è la Next Generation Law. Ora, quindi, spesso gli ambientalisti vengono accusati di posizioni ideologiche, ma io penso che questa volta sia vero tutto il contrario. Sì, bisogna dire che gli agricoltori, a cui noi dobbiamo molto, tanto, diciamo, sono sempre nei nostri pensieri, però sono stati un po' strumentalizzati, tant'è vero che hanno motivato le loro proteste con i trattori, abbiamo visto, insomma, con varie ragioni diverse, a seconda del Paese, no? Quindi già questo dimostra che non avevano le idee chiare, ma soprattutto contro il Green Deal, che poi invece lì sono proprio loro a essere tutelati, gli agricoltori, no? La zootecnia e gli agricoltori sono proprio a essere tutelati da questo nuovo corso, da questo grindi, da questo corso verde, diciamo, che è giusto che sia così, perché noi non possiamo badare solo ai profitti. D'altra parte, il conciliare profitto di chi produce e il rispetto della natura è nella nostra Costituzione da poco, è vero, Dottor Laurino? L'abbiamo detto altre volte. Sì, tra i pareri di uno dei principi sta uno degli articoli della Costituzione, sta tra i primi dolci, l'articolo 9 della Costituzione, l'altro è l'articolo 41 che recita che non si può fare profitto, diciamo, semplificando al massimo, sei andando ad alterare gli ecosistemi. Però ecco, facendo riferimento a quello che lei diceva prima, allora è stato preso di mira il Green Deal che si basa essenzialmente su due pilasti, Farm to Fork e Biodiversità 2030. Ma bisogna dire che se è vero, così come è stato accertato, che questi due principi sono stati solo annunciati e mai applicati, diciamo, per intero, allora probabilmente il disagio degli agricoltori non proviene dal Green Deal o dal Nature Restoration Law, ma dipende forse probabilmente da altri contesti. Faccio un esempio, il produttore di farina, oggi come oggi, gli resta solo il 10% del costo del prodotto finito su di scaffale nei supermercati. quindi probabilmente è un po' la filiera che va ricontrollata e va analizzata, non andare in contraposizione a quelle che è la natura. Sì, ne parliamo tra poco, scendiamo in questo particolare e tra poco approfondiamo. Ora dicevo, Dottor Laurie, manca solo, dopo questa legge votata dal Parlamento europeo, manca il voto in plenaria del Parlamento, previsto tra il 26 e il 29 febbraio, l'abbiamo visto, e poi deve essere recepita dai vari governi, insomma. Tra marzo e aprile? Tra marzo e aprile, esatto, un paio di mesi, sì, esatto. Bisogna dire che è un voto storico, perché hanno questo voto, è per il ripristino degli ecosistemi, più di 6 mila scienziati, di 100 imprese, 200 ONG, ma anche un milione di firme, tra cui anche le nostre, diciamo, per spingere un milione di cittadini europei per spingere questa legge, hanno sollecitato e continuano a sollecitare le istituzioni a rendere questa legge una realtà. Ecco, spieghiamo ai nostri telespettatori cosa prevede questa Natural Restoration Law, Cioè, quali saranno gli effetti? Sì, allora, innanzitutto quello di aumentare e proteggere la biodiversità. Non dimentichiamo che devastando gli ecosistemi si va a perdere la biodiversità che è alla base poi delle produzioni agricole, visto che siamo in un contesto ben preciso. Ed è fondamentale questo aspetto perché proteggere le azioni benefiche della natura, come la pulizia dell'area, dell'acqua, proteggere gli impollinatori, proteggere dall'inondazione, limitare il riscaldamento globale, si traduce fondamentalmente nel benessere dell'agricoltura. Ecco, molto spesso noi ambientalisti veniamo fraintesi perché sembra che tutto quello che vogliamo fare a vantaggio della biodiversità e della riduzione del riscaldamento del pianeta e lo facciamo per un fatto nostalgico o ideologico. Invece è proprio tutto il contrario, nel senso che se la biodiversità non viene salvaguardata e se il riscaldamento del pianeta va troppo avanti, saltano le economie. È impossibile pensare di continuare a produrre prodotti di eccellenza, qual è che l'Italia è la prima in Europa, o meglio, è la prima nel mondo, con un pianeta devastato, con un ecosistema devastato, con l'acqua che diventa sempre di meno e con gli impollinatori che praticamente non riescono a fare più il loro lavoro perché si vede invasi dai pesticidi. Sì, quindi è un fatto culturale questo contrasto a questa legge, anche di questo governo nostro italiano. Bisogna avere coraggio, dottore. Loro hanno accusato gli altri paesi di scelta ideologica, io penso che invece l'ideologia è stata all'altra parte. Mai come questa volta l'ideologia è stata all'altra parte perché anche nelle campagne che noi portiamo avanti costantemente, come diceva lei, è un problema ideologico e culturale. Non si può pensare oggi a continuare a coltivare come negli anni 50 e negli anni 60. È un po' come il discorso delle autovetture che immediatamente prima dell'epoca Covid si diceva che noi ambientalisti eravamo dei sognatori perché era impossibile circolare con le auto elettriche. Improvvisamente non si sa come, ma con la bacchetta magica praticamente adesso si parla solo di ibrido e si parla di auto elettriche. E lo stesso discorso bisogna farlo anche con l'agricoltura perché continuare a distruggere gli ecosistemi per recuperare campi da coltivare è veramente un paradosso. Bisogna puntare su un'agricoltura equa, pulita e giusta. Dal ripristino della natura sono legate anche altre importanti iniziative che abbiamo letto in questi giorni promosse da voi, dal WWF, ma anche da Greenpeace, anche da tutte le altre, sulla riduzione dei consumi di carne. Noi ne parliamo spesso, c'è chi sorride, chi storce la bocca, invece bisogna capire perché ridurre i consumi di carne. Non toglierli, non eliminarli, ridurli della metà meglio se di un terzo perché in questo modo si ridurranno di conseguenza, perché diminuisce la domanda, gli allevamenti maniacalmente intensivi di bovini, soprattutto di allevamenti di bovini, ma anche di polli, di suini, eccetera, che trovano un nesso stretto con la deforestazione, la minaccia agli insetti, impollinatori, cioè le api innanzitutto, il consumo di suolo, i consumi di acqua e quindi il ripristino della natura. Ecco perché si chiama Restoration, voi che state seguendo, telespettatrici, telespettatori da casa, voi anche i ragazzi, i giorni, dovete capire che questi sforzi, queste leggi, sono per farvi vivere, perché a noi restano pochi anni da vivere, ma voi ne avete tanti da vivere e dovrete vivere lì meglio. E quindi spieghiamo perché, spieghiamo perché secondo il VVF le proposte di modifica del governo italiano alla Commissione UE, che invece poi è stato contrastato dall'approvazione della legge, ci riporterebbe indietro di 25 anni. Che cos'è che ci fa arretrare, dottor Lauria? Allora, tutto sta in una premessa, che non può esistere un'agricoltura senza tutela del suolo, delle acque, dell'aria, del benessere degli animali, del nostro capitale naturale. Lei l'ha spiegato benissimo prima. Ecco, allora, questa, la campagna che abbiamo lanciato questa settimana, come assolio può essere vista come un fatto ideologico, però fondamentalmente è la scienza che ci fornisce i numeri per cercare di spiegare alle persone e che bisogna ridurre, quanto più possibile, gli allevamenti intensivi. Perché gli allevamenti intensivi sono responsabili dell'uso del 77% del reno agricolo del pianeta. Sì, e qui vediamo, vedete, i consumi di bovini, pollame, suini e poi i consumi di acqua. Vedete i consumi di acqua? Sono veramente preoccupanti. Impressionanti. Impressionanti. In Europa, bisogna dire che in Europa, più dell'80% della carne proviene di allevamenti intensivi. In Italia addirittura si arriva all'85% per l'allevamento dei polli e il 95% dei suini. Ecco, questo, e gli allevamenti intensivi, per dire che tutto è collegato, bisogna rivedere tutta la filiera in maniera virtuosa e la tecnologia oggi ce lo consente, cioè in Europa non sono tutti quanti folli, gli allevamenti intensivi sono una delle principali cause del cambiamento climatico, responsabili del 16% delle emissioni globali dei gas serra e del 60% delle emissioni... Ecco, vedete le differenze, dottor Loria, mi scusi se la interrompo. Vedete quanti litri per il cibo che mangiamo, cioè il 3.000%. Diciamolo chiaramente a chi ci ascolta, l'80% dell'acqua che produce questo pianeta è per l'agricoltura, per la zootecnia, il 20% è per noi, poveri umani, che dobbiamo bere, lavarci e fare tutto il resto con quel po' di acqua che ci resta. Questa è la verità, sono i numeri che sono importanti nella vita, non le ideologie. Quindi ecco perché questa legge, e bene o male che c'è l'Europa, noi spesso contestiamo l'Unione Europea per alcune decisioni che non ci piacciono, ma in questi casi l'Unione Europea diventa importante, fondamentale, perché senza nessun singolo paese magari avrebbe preso un'iniziativa del genere, avrebbe votato una legge del genere. Sì, infatti, dottore, anche perché lei ha citato un altro comparto strettamente legato all'agricoltura, quello dell'acqua. Allora, non possiamo continuare a emungere acqua dal sottosuolo e continuare a spiegare acqua, diciamo, per gli usi più banali. Ecco, queste proiezioni che adesso vediamo, mi scusi, dottor Laurì, se la interrompo, le fa Barilla. Barilla ha fatto questo video, questo filmato, Barilla in effetti è un'azienda che produce, è un'azienda industriale. Perché fa queste cose? Perché vuole spiegare che per fare un piatto di pasta ci vuole un millesimo, un millesimo di quello che serve per far bene i bovini nel mondo. Certo, anche perché poi c'è un altro aspetto da considerare, non lo dice WWF, lo dice la scienza medica da parecchi anni, che bisogna ridurre per avere maggiore longevità, essere maggiormente proiettate nel futuro, e tutti quanti ci teniamo alla nostra salute, a vivere bene e a lungo, bisogna ridurre, quando più possibile, il consumo delle carni animali. E invece negli ultimi 25-30 anni abbiamo assistito a un triplicare dei consumi di carne. D'altro, basta guardarsi intorno, cioè, mentre prima si vedeva uno ogni tanto di questi negozi che vendono il panino con la porchetta, mi scusi, con la porpetta, chimicizzata, adesso stanno spuntando dappertutto. E' un po' la cultura della dieta mediterranea che deve essere alla base di tutto e deve essere recuperata. Sì, sì, sì. Infatti io mi chiedo spesso da così, da telespettatore che vedo le pubblicità, com'è che in questo Paese si consente di pubblicizzare un farmaco e un principio come l'ibuprofene, mentre in Francia è vietato. Macron ha vietato in Francia, anche in Germania, si sta vietando la pubblicità a questi fans, che poi ognuno è libero, dice, però la pubblicità no. E poi la pubblicità degli alcolici. Come mai in questo Paese si pubblicizzano gli alcolici? Ma siamo seri o siamo degli idioti in questo Paese? Traverete sì, c'era una pubblicità. E poi la pubblicità di questa gente che mangia questi enormi panini pieni di carne, di formaggi, eccetera, è giusto, è etico, è morale? Oppure può essere lasciata a noi la libertà di scegliere, ma senza che lo pubblicizziate, insomma? La libertà di scelta avviene nel momento in cui c'è una diffusione di una cultura oggettiva, non una cultura unilaterale. Sì, ma se lo fai cento, mille volte al giorno, alla fine tu che fai? La pubblicità un po' ti suggestiona, no? Ti porta, insomma, ti spinge. Sì, ma da tutto c'era uno slogan che diceva a proposito degli alcolici, faceva finta del discorso etico, come diceva, bevi il giusto, ma è ragione impera e t'inco bevi il giusto. Quindi è come dire, fuma il giusto, no? Fumare fa male alla salute, punto. Vabbè, il fumo prima si pubblicizzava, me lo ricordo, no? I pacchetti di sigarette, eccetera. Adesso invece non lo si fa più, ecco, se non si dovrebbe fare anche con queste altre cose che sono immorali, come dire, perché spingono poi i giovani. La pubblicità subliminare è a volte micidiale, non dimentichiamo, io sono considerato un boomer dei film degli anni 50-60, non c'era una star di Hollywood che non teneva la sigaretta in mano, quindi era una pubblicità indiretta, indotta, molto pericolosa. Però ecco, se noi riusciamo a diffondere bene la cultura che l'alternativa c'è, che un altro mondo è possibile, perché già esiste, anche nell'ambito dell'agricoltura, faremo sicuramente passi avanti. E i segnali stanno venendo, perché molte aziende stanno puntando più che sulla quantità e sul saccheggio del territorio, come dice papà Francesco, che non deve essere divorato, ma deve essere rispettato, sempre di più sono le aziende che stanno andando in questa direzione, verso un uso consapevole e responsabile del suolo e della biodiversità.